Il Gran Sasso d'Italia è la montagna più alta dell'Italia peninsulare ed è un patrimonio identitario dell'Abruzzo. Riscrivere insieme una nuova storia su questo luogo straordinario è il progetto di Walter Mazzitti, presidente dell'Associazione Amici del Gran Sasso d'Italia. La proposta è quella di comunicare attraverso un portale dedicato un'idea vincente e avvincente di montagna, che privilegi grandi temi come quello dei giovani e del lavoro ed è più che mai opportuno farlo in occasione della giornata mondiale delle montagne indetta dall'ONU. Ormai mi sono convinto che bisogna cominciare a lavorare sul Gran Sasso d'Italia che resta veramente il grande totem identitario sul quale l'Abruzzo deve poter puntare. Abbiamo tutti bisogno di riconoscerci in qualcosa di forte e di forte noi abbiamo questo grande monumento ambientale, che è la montagna più alta dell'Italia peninsulare, la montagna più alta degli Appennini, sui quali e intorno ai quali si è fatta la storia d'Italia. Quindi noi abbiamo questa grandissima opportunità, questo grande potenziale che non abbiamo mai sufficientemente sfruttato. Io sono convinto che gli abruzzesi, i terramani, tutti coloro i quali vivono intorno al Gran Sasso, non parliamo degli italiani, non hanno ancora questa forte percezione. Ma allora come aggregarli? Noi abbiamo immaginato, l'associazione Amici del Gran Sasso d'Italia nasce con questo scopo, cioè quello di aggregare attorno ad una rete, attraverso una rete, quindi noi presenteremo un nuovo sito internet molto innovativo, molto bello, nel quale ciascuno, chiunque ami la montagna, qualunque titolo, cioè lo si ama per l'ambiente, per il paesaggio, per i fiumi, per i boschi, per gli animali, eccetera, ma chi ama anche la montagna perché pensa che la montagna possa diventare un luogo anche di sviluppo, tutti possono entrare a far parte di quella che noi definiamo la comunità del Gran Sasso d'Italia, cioè tutti i cittadini, ma non solo cittadini, ma se vogliono anche tante associazioni, enti, eccetera, i quali si vogliono riconoscere e si vogliono aggregare attorno all'idea di costruire un grande progetto futuro, tra l'altro un progetto destinato alle nuove generazioni. Tra gli obiettivi dell'associazione Amici del Gran Sasso d'Italia, presieduta da Walter Mazzitti, c'è la promozione delle realtà agroalimentari montane, definite nicchie, ma che tutte insieme, se sapientemente raccontate, potranno valere molto più della Ferrari e del suo indotto.